Buonasera, buonasera a voi. Allora, riflettevo un po' in questi ultimi due giorni che in fondo noi, e quando dico noi, parlo degli youtuber, quelli che insomma vi parlano dal loro canale, che magari vi parlano da Facebook, insomma che parlano in generale su queste piattaforme, che trattano in fondo un po' sempre gli stessi temi, perché se andiamo a vedere i grandi temi che in questo momento sono sul tavolo, sono poi in fondo sempre gli stessi. Sono ovviamente la guerra, le guerre, le due maggiori guerre che preoccupano il pianeta, perché il rischio di un allargamento dei conflitti, non solo quello vicino a casa in Ucraina, tra Ucraina e Russi, ma anche quello in Medio Oriente, quello che sta succedendo in Palestina in particolare. Ecco, sono tutte situazioni di grande preoccupazione e quindi sono temi che trattiamo quasi quotidianamente. Per quanto riguarda invece la politica interna, sono invece le scaramucce che ci sono tra i due schieramenti, riguardano talvolta temi legati alla libertà, temi legati al mondo degli LGBT, perché c'è appena stato il Gay Pride, temi che riguardano i politici nel senso che abbiamo visto che in questi mesi molti politici sono stati reciprocamente dal fuoco avversario attaccati. L'intervento della magistratura mi viene adesso in mente la Sant'Anché, mi viene in mente Totti, ma ci sono tantissime altre situazioni. E poi c'è stato insomma questa storia che ha riguardato due personaggi, ho giusto fatto il video ieri, due personaggi così diversi da un punto di vista culturale come Salis e Forti, ma accumunati un po' dalla stessa sorte di essere stati riportati a casa in Italia e di aver riacquistato la libertà o la semilibertà, se così si può dire, perché insomma la politica aveva grande interesse di portare a casa queste due operazioni, non certo per questioni umanitarie, ma lo sappiamo per questioni semplicemente elettorali. Però c'è un però. Se poi invece andiamo a vedere i temi che sicuramente affliggono il nostro paese, i temi che dovrebbero riguardarci tutti i giorni, che sono i temi di carattere economico, ecco di questo non parla nessuno. Ma non è che chi fa le youtuber o anche i giornalisti che hanno dei canali non ne parlano perché così semplicemente non sono interessati a parlare di aspetti economici, ma non ne parlano per una ragione molto semplice, che non è il tema della nostra politica, non è il tema dei nostri politici. Lo è qualche volta in campagna elettorale, dove come anche in passato venivano date le mosine agli italiani, vi ricordate le 80 euro di Renzi e qualche cosa che ha fatto anche la Meloni. Oppure intavolare grandi discussioni che io sento ormai da vent'anni per quanto riguarda il salario minimo, ma appena le elezioni sono passate va nel dimenticatoio. Come quello, perché anche quella economia, tutta quella che riguarda le nostre tasche, ad esempio del caro benzina, tema tanto caro o uno dei temi cari alla Meloni durante la campagna elettorale, dove aveva fatto certe promesse, poi una volta che sono eletti, una volta che non ci sono più le elezioni, se ne dimenticano ampiamente. E questo è un fatto, da un lato, estremamente preoccupante, e dall'altro ci deve anche fare riflettere. Perché ci sono alcuni dati macroeconomici che continuano a dimostrare che il nostro paese sta sempre più scivolando verso la povertà, ci sono dati che ci dicono che noi siamo, per quanto riguarda gli stipendi, uno dei paesi negli ultimi posti, all'ultimo di sicuro per quanto riguarda il mondo occidentale, e siccome invece in questi vent'anni i prezzi sono clamorosamente aumentati, questo vuol dire una cosa sola, povertà. Vuol dire condizioni sempre peggiori rispetto alle quali gli italiani medi vanno incontro, per non parlare di pensioni, di non parlare di altri aspetti economici. La cosa che poi va anche sottolineata, che però anche coloro che dovrebbero in qualche modo impegnarsi, quello che sarebbe il loro compito per eccellenza, cioè i sindacati, sembra veramente che siano spariti dalla faccia della terra per quanto riguarda l'Italia. In fondo era preventivabile, perché i sindacati sono sempre stato, voglio dire così, una costola della sinistra, e quando c'era maggior conflitto tra una parte e l'altra parte politica, magari si presentavano anche in piazza come negli anni 70-80, quando io ero ragazzo. Adesso che ormai è tutt'uno, e l'abbiamo sempre detto, i sindacati non hanno più quasi ragion d'essere, e tra l'altro quello che potrebbero fare, che dovrebbero fare dibattersi per le politiche economiche, per il lavoro, non si sentono, sono assenti. Ed è purtroppo, questo lo devo dire, assente anche tutto quel mondo che si è creato, che è nato, quel mondo che si chiama il mondo del dissenso. Sembra che una volta finito il Covid non ci siano più altri temi che li riguardano. E questo è un fatto triste, un fatto preoccupante, perché invece dovrebbe essere un tema molto importante, perché se la libertà, la democrazia, sono dei temi fondamentali della nostra esistenza, però senza soldini non si mangia, senza soldini un capo di famiglia non arriva a fine mese e non riesce con regolarità a mettere insieme pranzo e cena per i suoi figli. E ditemi voi se questo non è un fatto grave e ditemi voi se questo non è un fatto sufficiente per presentarsi nelle piazze e pungolare il governo affinché vengano fatte delle politiche economiche serie nei confronti degli italiani. Con questo vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.